Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo brevissimo video in cui semplicemente mostro finalmente gli abbinamenti per il primo torneo fra YugiTubers quindi il torneo finalmente inizio dopo tipo un mese dall'annuncio allora quindi vorrei precisare che la Banned utilizzata dal torneo è quella di settembre 2011 fino a Photon Shockwave esclusa quindi Rabbit, Zen Maness non possono essere utilizzati e anche Chaos Dragon non deve essere utilizzato in questo torneo in quanto è successivo all'espansione Photon Shockwave quindi inviterei i partecipanti a inviarmi le decklist magari in privato qui su Facebook sulla pagina o su Whatsapp per chi ha il mio numero ecco e registrerò le semifinali se avrò tempo e sicuramente la finale, la finale va registrata assolutamente e magari con il vincitore con la top 4 analizzeremo insieme le decklist prossimo torneo che farò sempre fra YugiTubers mi auguro che ci siano più partecipanti e penso che lo farò con il formato di marzo 2011 che era diciamo più equilibrato rispetto a quello di ora immaginate che il BLS lì non c'era ecco detto questo per farvi capire e niente non badate qui all'immagine che mi ha messo il programma e i nomi al contrario ma vabbè quindi abbiamo Sildagra contro Verde99, anzi Verde99 contro Sildagra al tavolo 1 addirittura poi Yu-Gi-Oh! 0-0-92 contro Dark Fairy Team Nat History X contro Simone del Team Shadow Master Niko Chaos 112 contro Riccardo del Team Shadow Master e infine Yangus contro Mattek aiaiaia che bella sfidaccia e niente questo era tutto ripeto inviatemi le decklist al più presto ti auguriamo a Verde99 una bella cuorigiuna dato che la febbre e niente restate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e restate sintonizzati con la pagina Facebook per news sul torneo a un'altra cosa dopo che avrete giocato meglio che vi mandate risultati precisi tipo 2-1, 1-2 per gli abbinamenti ecco Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!